Ho scritto due lettere o due note, due richiami, due inviti, due suggerimenti che non sono delle condizioni che si possano porre per sostenere un governo che è indispensabile sostenere, che credo possa insediarsi e cominciare presto il suo lavoro di recupero di credibilità ma anche di risorse e soprattutto di rilancio dello sviluppo. L'attenzione per il sud, per carità, sarei negativamente sorpreso, c'è ancora tempo, fino a domani Monti farà le consultazioni, che tecnici o non tecnici, accademici o non accademici, politici o non politici, i ministri venissero tutti dalle università o delle esperienze dei territori del nord. C'è anche un sud dove c'è gente in gamba, capace, colta, preparata, che ha dato prova della sua competenza e capacità e che a differenza, e come è giusto che sia anche per gli uomini o le donne del nord, vive questi territori e quindi vivendoli giorno per giorno forse ne conosce meglio le condizioni e le prospettive.